eccoci buongiorno buongiorno come vedi questo titolo del video è un po ingannevole perché di prova costume oggi ce n'è ben poco nonostante siamo già a giugno avanzato però per chi volesse comunque provare a mettersi in forma per questa estate che non arriva mai oggi è giunto il momento della terapia d'urto c'è ben poco da fare di prolungato e sostenibile come predico spesso giusto ormai siamo lì siamo quasi alla fine del percorso quindi se vuoi tornare in forma di farlo comunque rapidamente non è per niente facile perché non si torna in forma così in due giorni quello che si può fare è sgonfiare di qualcosa dei liquidi in eccesso di quella massa grassa magari messa su in poco tempo e non quella radicata cioè se al 30 per cento di massa grassa come uomo di sicuro non arriverai con gli addominali scolpiti in poco tempo però sicuramente se hai messo su del peso in eccesso questo inverno è diciamo non è radicato ma è comunque stato messo su in pochi mesi può essere perso abbastanza velocemente se fai le cose giuste quindi ti propongo un piano un piano per il quale se sei interessato devi mandarmi un messaggio e ti spiego nei dettagli poi come funziona questo piano è strutturato su non allenamento in palestra ma un allenamento rapido metabolico giornaliero che ovviamente dovrai fare a casa o dove vorrai tu per circa 15 massimo 20 minuti al giorno è molto rapido molto intenso però funziona condiziona il tuo metabolismo e ti aiuta a bruciare diciamo grassi in eccesso la spiegazione e l'effetto epoch non scendo nel dettaglio però sappi che diciamo aumenti il consumo calorico nonostante duri molto poco anche nelle ore successive poi assieme a questo dovrai fare una sostituzione di 1 barra 2 pasti al giorno in modo ipocalorico quindi con un frullato proteico sostituto del pasto che ti permette di rimanere sazio dare le vitamine minerali e proteine necessarie e avere poche calorie che ti permettono ovviamente di poter mangiare diciamo meno a livello calorico e non soffrire la fame ok terzo passo terzo passo un digiuno strategico intermittente attenzione non è il classico digiuno ma è qualcosa di avanzato che ho studiato negli ultimi mesi deve essere ben strutturato se no perdi massa muscolare invece ti insegnerò a farlo in modo tale da accelerare la perdita peso a causa del grasso e non del muscolo quindi ci sono tre pilastri per questo programma molto rapido ti spiego come funziona se mi mandi un messaggio ti puoi aspettare risultati in 21 barra 28 giorni abbastanza massicci quindi se siamo ora più o meno inizio giugno potresti essere comunque sicuramente molto più pronto per la prova costume per inizio luglio o metà luglio quindi se sei interessato inviami un messaggio scrivi alla mia pagina mario giglio fitness o qui o nel mio profilo personale e ti spiego come funzionano i dettagli di questo piano rapido di condizionamento del tuo metabolismo è di prova costume lampo aspetto un tuo messaggio per oggi è tutto ciao da mario giglio grazie a tutti